Bella ragazzi, prima del video mi raccomando non dimenticate di fare un salto nel primo link in descrizione ragazzi Instant Gaming dove troverete un sacco di videogiochi a prezzi scontatissimi insieme alle ricariche per le vostre console e anche ai bundle di Fortnite Cosa aspettate? Primo link in descrizione, Instant Gaming Ehi, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video Io sono Xyuder e ragazzi alle mie spalle vediamo già la schermata di caricamento Quella che si sblocca con la settimana numero 7 Quindi le sfide di questa settimana ragazzi E voglio con voi oggi vedere la stella segreta Molti magari l'avranno già notata, forse ad alcuni è sparita Cosa cavolo stava partendo? È passata, è sfuggita di mano Insomma ragazzi, la stella segreta è nascosta come sempre in questa immagine E se la guardiamo meglio, guardate un po' là in alto a sinistra Yes, è proprio là imboscata in mezzo al ghiaccio ragazzi Quindi, ve la faccio rivedere meglio, vi do un'informazione in più Se non l'avete notata, eccola proprio lì ragazzi Insomma, lo abbiamo quasi praticamente capito tutti Dove si trova e allora andiamo a vederla insieme In modo da poterla prendere e da poter ottenere 10 stelline del pass battaglia Insomma, un livello extra Dobbiamo semplicemente andare ragazzi nel castello di ghiaccio Easy Dritti nella sala principale Qua c'è il trono La stella segreta apparirà indicativamente in questa zona Beh ragazzi, anche per questa settimana La stella segreta è stata scoperta Mi raccomando, iscrivetevi al canale Un bel like Noi ci vediamo in live Ciao Noi ci vediamo in live 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 Noi ci vediamo in live